Ciao e benvenuto su Televive. Televive è un progetto per una tv nuova. La programmazione, come dice il nome Vitavera, vuole trasmettere un messaggio positivo in tutti gli ambiti della vita umana, a partire dalla salute allo stile di vita, dai rapporti interpersonali alla famiglia, il come affrontare le grandi e piccole sfide di ogni giorno o le risposte alle grandi domande della vita, come cosa c'è dopo la morte o perché il dolore. E poi tanta musica, musica che trasmette gioia, pace, ma soprattutto speranza. Attualmente la programmazione è in costruzione, tuttavia se vuoi saperne di più puoi visitare il sito www.televive.org. Televive, per una vita vera, vivila anche tu.